ciao a tutti oggi vediamo come fare questo lavoro con il pirografo dopo aver fatto il disegno su un pezzettino di compensato riportiamo le linee principali del disegno con questa punta fine a questo punto invece ho cambiato la punta sto usando una punta piatta per andare a fare i riempimenti uso un pirografo con la regolazione della temperatura e qui provo su un pezzetto di legno di scarto per vedere la giusta temperatura e la colorazione la punta è stata leggermente inclinata in modo da essere più comoda e questo si fa con una pinza e con la punta calda leggermente piano piano si può piegare in modo da ottenere la posizione più adatta con la punta calda leggermente piano 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 e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.